Un tortino goloso con zucca e zenzero, perfetto per l'autunno. Raccogli 500 g di zucca, 3 uova, 200 g di zucchero, 200 g di farina e 100 g di burro. Metti la zucca in forno a 180 gradi per 30 minuti. Unisci la zucca cotta, uova, zucchero, farina, burro e un pizzico di zenzero. Versa l'impasto in una teglia e cuoci in forno a 180 gradi per 40 minuti. Una volta raffreddato, servi il tortino con un po' di zenzero grattugiato.